Hanno vinto la battaglia, ma la guerra è ancora No Grazie alla congensione PABOOM Grazie al like Cioè praticamente in singolo ne ammazzi uno E tenere uno venti, dico in gruppo Praticamente Ok Preparate l'attrezzatura Vabbè arrivo, grazie per il like, benvenuto Oh sì, un cazzo Ah, l'hanno fatto vuore Ma dove cazzo è che... Cazzo è un... Ciao Mario, grazie per il like, benvenuto Benvenuti ragazzi Un soldato nemico Ah, è anche Saberio Fine dell'allenamento Vediamo cosa avete imparato Shave like a bomber Ritorno Attenzione al gas Andiamo qua Un singolo è qua Non l'ho mai fatto Cioè qua in questa zona Niente, confermato Allo scadere del timer Per rientrare liberamente Accumulate punti Per accelerare il controllo C'è un soldato nemico Uscidete i nemici Senza che lo facciano loro Raga Raga Non è ancora finito Va bene Ma tutto aperto C'è un soldato nemico C'è un soldato nemico C'è un soldato nemico C'è un soldato nemico Non è anche come ho fatto Ricognizione in avvicinamento UAV in sorvolo Autonomia UAV esaurita Rientro alla base Gas in movimento Non mi prendeva il coso Bravo lui Si era bloccato Vabbè Vuoi tornare in azione Dai che c'era il car Ma lo avevo lasciato C'era Un soldato nemico Con gloria Non mi prendeva il coso Si è un soldato Si è un soldato Ma lo avevo lasciato lancio di equipaggiamento in arrivo il gas si avvicina nuova zona sicura per voi uavvi nemico attivo i mercenari usano un elicottero di rifornimento per depositare il denaro tendetevi un agguato restate in 25 tieni gli occhi aperti c'è un soldato nemico il tuo avvi nemico attivo Massimo, attenzione! Un team nemico ti sta dando la caccia! Uwe! Rancione, rancione! You fucking shit! Rancione, rancione! Rancione, rancione! Che cazzo! E non è perché mi lamento o voglio di lamentarmi perché... Perché veramente, cioè, giocare così, raga, è stressante! Che cazzo! Un team nemico attivo! Alla nuova zona sicura! Gas in arrivo! Un team nemico attivo! cominciamo ritorno sta per finire testa ben piattata sulle spalle ancora quello è ancora quello sono già che qua ci muoio i mercenari usano un elicottero di rifornimento per depositare il denaro tendetegli un agguato chiamano sempre nei momenti più giusti tu sei ancora lì ho visto io raga adesso sei negli ultimi 10 come che cazzo è sto facendo guardi sono stanco ti restavano meno di 10 nemici mi ostino a giocare col cecchino ma ah si si buongiorno Gianluca buongiorno grazie a tutti i like facciamo due game ma volevo fare qualcosina mi avevano invitato prima aspetta un po tranquilo non riesco a leggere la chat parco giuda c'ho qualcosa nell'occhio buongiorno a tutti buongiorno 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 a tutti i like ma se ve lo leggo va Grazie a tutti. Devo iniziare a fare i tornei ragazzi, i tornei. Oh, oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Nemico in arrivo nell'area. Nemico in arrivo nell'area. Fine dell'allenamento. Vediamo cosa avete imparato. È imparato che il suo gioco fa bestemmiare. Allora. Resistete fino allo scadere del timer per rientrare liberamente. Accumulate punti per accelerare il conto all'arresto. C'è un soldato nemico. Uccidete i nemici senza che lo facciano loro. Un soldato nemico attivo. Arci d'erbolina. C'è un soldato nemico. No, 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 no. Perché mi si blocca, Cristo? Sì, dai, sei più forte del live, dai. Va bene. Hai un'altra opportunità per fare la differenza. Tutto aperto. Chi è stato un soldato? 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 un uav invece di un bombi no eh bastardo una vittima una vittima sta arrivando un nemico attenzione in alto lancio di equipaggiamento in arrivo sta arrivando un nemico attacco aereo sul mio bersaglio gas in arrivo c'è una nuova zona sicura qui finix 3 attacco in corso nessun nemico colpito i mercenari usano unicottero del volimento per depositarre il denaro tendetegli un aguato no no sta arrivando un nemico attenzione in alto uav nemico attivo disturbatore nemico individuato nella vostra ok andiamo uav nemico attivo assist e poi si è andato tutto di là il gas vi raggiunge uav nemico attivo ah ok mi aspettava già wow fantastico ritorni il campo forza va e vendicati ah ti sono uscito il lancio? ah non l'avevo visto non ce l'ho toccata vedi eh no no scusate scusate 25 rimasti stai a tanto bene sono morto sono morto guarda quest'altro guarda quest'altro gas in avvicinamento nuova zona sicura eh devo tirartela la cecchinata in fronte tu uuuh puote puoi puoi pux Ottima allerta, ritorno sta per finire Oh la No liscio che palle Dai Matt Comunque con questi cristiani non si capisce un cazzo Sono un coglione Minchia che nabbo questo E due coglione E' stato un duro col Cristo, ciao Ricky Grazie di like E vabbè dai facciamo squad Io mi ostino, mi ostino Continuo a fare, ma si dai Mette dai Sarà bello Oh ma stanculo Aspetta Animalu Vabbè ragazzi Alla prossima Ciao Ryan Non c'è Vediamo se lo Eh si Non c'è Non c'è Non c'è Il pepsi Non c'è Ciao Matt Monica grazie del like Benvenuta Aspetta fammi Mi vuole che ti è stronzo Inoccupata Volevi invitarlo Come mai joini tu da me? Ti fili della mia connessione? Magari te lo avranno sicuramente Robi con un rate un po' più basso No no Però visto l'invito Sono fatto accetto Hai fatto il benessere Ah ma non Fammi non richiamare Se no Siamo coppia No tranquillo Tranquillo Vado a prendere Te la comando Vado a prendere 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 Avviene i terzetti allora Ah no fra... Fortunato e l'Ibaba G Cosa? Ma puoi stare fuori da... Come? No, continua a entrare sto qua che non so chi sia Cioè... Aspetta, aspetta E mo non vedo più Ricky Puttana galera Ricky... Puttana Ma tiene uno bello pesce E' molto bello Oh, un mettone Sei da solo? E' sto invitando un amico Eh, anche io sto invitando un amico No cazzo scusa Ma continuiamo a entrare questo E' per questo che devo mettere E' per questo che metto sempre party su invito Quindi... Proprio per evitare sta qua Mamma mia Ma ancora non lo vedo neanche online Chi? Lungame Un amico, un amico Arrivo subito Fioi Yes Anche ragazzi, era bene No cazzo scusare 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 Mi ha spento la tv No cazzo scusare Bastardo si ciula la connessione della nonna Geniale No cazzo scusare No cazzo scusare No cazzo scusare Ah però come così Esagerazione Sopravvivete per far rischierare i caduti 42 gradi oggi da me Mamma mia Cadami a Milano C'è un soldato nemico Versaglio in capo C'è gente? Non ho un'arma Oh c'è uno davanti Prego Ah 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 Il pugno Eeeh Allora Dicolo Come siamo No no ma Uccidemi quando potremmo Dai da C'è un po' C'è un po' Di bomba ma ha preso Rive un altro Rive un altro Rive un altro Oh tu alleato Oh bello il cecchino Dove sei? Vieni qua Con il bicecchino Non l'avete ragazzi? Andorate un po'? Disturbatore nemico E' un po' Andato a destra Cambio posizione Eh? Dai te l'avete fatto Lo stronzo là? Sì sì No dove? Aspetta dove? Eh lo vedo lo vedo Eeeh Come fai a vedermi? Beh Fatto io a terra? Bastardo mi vedi Dov'è? Giuro che ti ammazzo Dov'è finito? Qua Dov'era? Oh lei colpi cecchini Preto Oh colpi cecchini Preto Bors Tieni C'è un altro C'è un altro C'è un altro C'è un altro Qua ragazzi Qua u Qui c'è un bersaglio Tiene 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 Che cazzo Qua cazzo è questo? Dentro la chiesa Ok 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 Un tuo alleato è appena rientrato Guarda quei due Guarda quei due Pingameli pingameli Sulla mappa Sulla mappa Li ho visti Non Carle Confermo Versaglio Stile Eccolo Perché mi ha fatto L'aremotico Non me ne frega un cazzo Dell'emotico Io comunque sono qua Terra fatto? Uno è qua Uno qua dove ho pingato Raga È proprio qua Frammentazione Arrivo Matt Sopra 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 Dammi un colpo Ricky dammi un colpo C'è un altro Su Posso venire Aspetta Lo vedo Mi ha sciolto Mi ha sciolto Non ci posso credere Ti stanno Sopra Mi ha sciolto Nelmar Mi ha sciolto Vuoi tornare In azione Arriva Brodi I candiedi Vabbè Lo so J qua uno va sopra uno è cipro gli altri sono dentro la chiesa oh uno qua traccato traccato ma ce n'è tantissimo è stato male sono qua fuori questi sono bloccato qua ti tiro un grappolo addosso vieni via abbiamo un lancio bellissimo bellissimo il grappolo era uno sopra tipo a capocchiato sopra uno lì sopra tipo era no no da dietro da dietro finchia camperano è in più che nervoso Cristo grazie a lei grazie a lei Ivo buongiorno buongiorno a tutti Cristian come stai? iniziamo con una scarica di bestemmie questo è molto bello fai un'altra occasione sfruttalo bene quando hai detto per dio mi sembravi Aldo mamma ma che tornata io ho fatto oh c'erano le munizioni qualcuno vada a prenderlo oh c'erano qua borse borsino una terra no 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 poi si medea dove è terra uno si butta qua sotto raga sta arrivando un nemico il gas vi è quasi addosso questo mi sto facendo male ahia ahia ne è uno sotto tra cento e chilente da sopra attacco a grappolo aria se ne è un'altra sotto a ponticiano dove ci hanno sciopportati tu cazzo membro della squadra in rientro con me la oh sei tu mi farai l'infame con me la sito una merda operatore ostile da qua ti sparavano comunque ho quello lì attacco il tiratore praticamente distrutto ah ma c'è una pistola vince che odio ti parco ti tiro terra fatto dopo di te dietro di te l'altro qua da me ho visto attaccatissimo raga a casa a casa adesso l'operazione fallisce adesso ancora manco l'ho preso ma non so dovrei abbassare un pochino nuova zona sicura membro della squadra in rientro provo il lodi vai 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 ma tre bello mio grazie a like Gianluca anzi te l'ho detto mi ha un voto di demore a volte buonasera anzi buon pomeriggio come stai avete piastre sì sì ne ho piene io sì no 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 ecco delle protezioni questo è in volo proviamo a farcelo non ce lo farò non ce lo farò mai non ce la farò non fare quel giro non fare quel giro ascolta mia ma che coglione ciò che sa piastre non ci ho fatto caso mi scusa ma io vorrei sapere ma così pur parler ma c'è gente c'è gente tutti nella zona sicura beh da tutta la risposta grazie granata stordente partita stanno su mi sa sì 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 qua 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 lo visto mi ha distrutto mi ha distrutto c'era un altro non ce la farò non capisco da che parte sei ma da dove come è possibile come cazzo è possibile dove cazzo arrivi tu sei alone piccolo cari però qui aaaah bastardo bravo bravo va bene te lo passo te lo passo volentieri torno all'oddy non c'è più vengo lì c'è un'armetta c'era uno sul testo due non scherzo mi ne vado a dio vabbè dai io ho troppo il figlio sono morto io ci sono droppati in testa hai un'altra occasione sfruttalo bene minchia se ne stando lì eh bastardi dai oh pushano bravi levatevi dei coglioni ma come cazzo picchia picchia oh ma se trovi penso che posso rianimare tra l'altro aspetta aspetta dovuto lo dovevano uccidermi quando potevano guarda che schifosi va no liscio merda ma sei qui il forte del live ma che forte fa vedere oh che agganci 4.800 un rest e il 3.000 costa sì 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 comunque tutto bene Gianluca tu come stai segnala una stazione d'acquisto ci vorrebbe un silenzio di tomba adesso ho fatto il primo raga ha lasciato i soldi lasciati i soldi lasciati i soldi lasciati i soldi lasciati i soldi ho avvistato del denaro 3.000 CRS buono c'è la maschera vabbè come vuoi no cazzo mi sparano questo questo si chiama meraviglie dove metto oh ma no che pubblicio che sono dovevano uccidermi quando potevano un cecchino di vanno guarda c'è la placchezza bro si tiene va bene il gas vi è quasi addosso ma come fa a sapere sempre dove sto no dai a spesso mi ha sparato un wallbang c'è no che piccio mi ha sparato un wallbang ma quanto ci vuole a mandare lì giù una vita uno one shot lì dobbiamo raggiungere la zona sicura uno ce l'ho qua atterra uno uno sopra one shot one shot quello fuori dai come faccia non ucciderlo dove dove davanti davanti si mamma mia grandissimi che turbata io ho fatto questo ragazzi una partita non uccidero mamma ragazzi l'ultimo l'ultimo entro dentro esco fuori non sapevo dov'era giuro ragazzi comincio a tornare come un pazzo finché lo accangono non sapevo dov'era non lo metto non sapevo quello ha preso il destra che ha tirato la finestra e tirato i due sicuro è molto bello che violenza fammelo imitare andiamo se viene vediamo se viene chi viene per primo vediamo aspetta eccolo il faze dei faze dei faze dei faze vai vai pure max grazie del like benvenuto buongior no solo quello giuro l'avrei fatto buon merito a te andri ci sei? aspetta che hai matto la tua moglie aspetta che il tanto solterà sì sì che cazzo di skin è? quale? no stavo vedendo che cazzo di come ho fatto a sbloccarla solo osate questo tempo per allenarvi poi si farà sul serio caidio no una kill semplice da rovinarla a casa tutti basta giocare prepararsi al lancio sulla zona di guerra ok io anche se andrea si chiamano mani quelle sono armi buone usando la mar le mani le mani vabbè vabbè la marco ho l'arma guerra va bene anche l'arma guerra sì e l'NZ fa ancora bene ma ritorno tutti nella zona sicura ma vanno bene tutte se non da me tu perdi tanti di quei fatti perché sto cazzo di cecchino per fare sto giocati nel caglio non vale sinceramente non me ne prego un cazzo mi prego un cazzo delle lo so però a volte per la giocata eh lo so ma guarda ho fatto un discorso l'altro giorno al ragazzo mi fa ma Matt mi fa Matt se usassi il se usassi l'assalto faresti molte più oh ci dimenta me dicevo mi fa se usassi l'assalto faresti molte più kill ok ti do la ragione però secondo me io col cecchino mi diverto di più mi diverto molto di più e poi se ti vengono certe cose ragazzi cioè a me non mi diverte più cecchino perché secondo me lo so lo so è troppo raga abbiamo un log di pace c'è pro io si è bene c'ha stato lì vedo dei nemici che ne sono ti caido mi stavi mi stavi dov'è andrò oh senti di fronte bravo l'altro lì terra la sera taglio l'altro pro laggiù ah ma sei laggiù andrea cazzo sta arrivando un nemico mi puscio uno qua attenzione in alto terra un altro ma è natale l'antemico mi ha fatto la vita ero proprio senza piastre trovassi i soldi sarei io ma non c'ho te li lasciati qua io già ho le armi proprio per finire la partita uno qua metà confermata vabbè dai lasciamo perdere ok 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 oiii daaa lo lascerò tu avvi nemico attivo i gas ti è fatti attacchi traccatissima è un one shot però gli devi dare aspetta 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 qui c'è un bel bodycash arrivo terra quello che mi stavi seguendo traccato questo un one shot attacco il tiratore boh cazzo stanno destrando lì dentro mezzo sta arrivando un nemico scusami hai buttato uno giro verso di te ma che ehi che 27 sono arrivo puoi tornare in azione lancio di equipaggiamento per voi come sei messo a labbra un ghi ce l'hai io sono a posto arriva il gas lo coi parco la nuova zona sicura 36 minuti eh brutto ci hanno lenti sta arrivando un nemico i mercenari usano un elicottero di riportimento per depositare il denaro tendetegli un agguato ma dov'è ma dov'è minchia ma se i stronzi mi prendono di mira lo sopra erano quasi tutti lì eh che cazzo è lo vedo lo vedo butto un ping da me da me da me no 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 non lo sta rassando attacco a grappolo alleato ho craccato mi ho tirato un bombi no 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 uno fatto uno fatto raga raga guarda me raga guarda me attacco a grappolo alleato occhio subito sulla sinistra raga mi devo giocare la mano su cazzo eh Andrea siamo tutti arrivo un attimo ma questo è da dove è uscito questo qua cazzo è proprio così soldato ci rimani soltanto tu sopravvividi per varie dai ma guarda questo è da dove è uscito ho tuo alleato ma c'è tanto l'ultimo tu la torrente ce l'hai lì davanti ma a te no ma non l'ha serato il bambino soldato nemico i tuoi compagni sono morti resisti fino a è lì ma te l'ho detto sulla torre te l'ho detto oh ma come cazzo fa sono bravi eh sono bravi bravi ho imparato mi sparano il tuo alleato è appena rientrato tu avvi nemico no che piccio raga però con sta cazzo di no hanno gli agganci che mi puzzano proprio di merda posso prenderlo quello di? in teoria eh sì l'ho usato aspetta 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 che devo prenderlo io ancora aspetta c'è nel senso ah boh 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 ok ok no no che se no va via se no lo arrivo ma è sparito ma non l'avevo preso ma è sparito come è sparito ma non l'avevo preso io sono uscito mi hanno mi sono uscito mi hanno lasciato il volo ma è sparito andiamo ma dà qua 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 venite 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 il blu vedi te me disturbatore nemico individuato nella vostra area disturbatore nemico individuato nella vostra area gas in avvicinamento nuova zona sicura C'è un soldato nemico È qua È qua Ma raga ma non ci sono capace Ma dai ma di nuovo lui raga ma di nuovo lui Non riuscivo a Raga una kill easy quella Ma come cazzo fa Era sopra il letto raga nascosto Arrivano Venga prendimi la roba se riesco Membro della squadra io rientro Aiuto potrei far prendere Audio Dopo di me Aiuto aiuto Raga 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 In attacco muovendo Contatto Venite 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 Attacco il tiratore Occhi aperti Vedo il messaggio Non lo so troppo Con tre Quattro Due team due team due team Due team però C'è un soldato nemico No no ma questi cittano bro Sa predicate Siete in 25 nell'area operativa Tiene uno da me Che cazzo è sempre più vicino Mi sa Ti puzzano troppo uno No ma stai puzzando di merda Dai ma questi sanno sempre dove sto Membro della squadra in rientro Tiene non muoiono Eh mo gli arriva una bella sporata di merda Perché c'ha un altro team qua sotto Membro della squadra in rientro Bombardamento di precisione nemico Giù Qua ragazzi gente qua Nemico avvistato C'è uno che mi puzza raga di brutto I rinforzi sono in arrivo Beh lo compriamo dall'altra parte sto lod Mi sono rotto le palle Niente più ritorno Niente secondi Ma non posso morire No ancora Raga questo bus Casse in arrivo C'è una nuova zona sicura Porto il cazzo È l'unica Oppure di acqua Ancora qui Oh morto Nemico in arrivo nell'area Per seguirmi sapendo dove vado Sto andando all'altra parte della mappa dopo Ho tuo alleato e appena rientrato Eh vabbè Alessandro Grazie del like Madonna raga Questo se vi avete Se vedete la mia morte C'è il movimento più lento di non so cosa Guarda lì Ma come può essere Ma come può essere Sta sempre dove sto Eh 700 euro Che dobbiamo fare ragazzi Sono morto Giocatela tranquillo Campera Fai Dai come cazzo Vuoi Fai cosa vuoi Tanto Io sono andato a prendermi Il logout tre volte Tre volte E i bastardi Ma non ti In movimento No non ce la fai Bello sto c'è qua È un colpo Cioè è colpo singolo Bam 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 Ehi Ehi Mett'è Mett'è Confezzare Quanto passi Quanto passi Non lo vedi che sono tutti un po' Siete rimasti in dieci Eh Che giocatela Tranquillo Ecco Che cazzo Non è mia neanche corazza No C'è ancora da combattere E sei team Dieci persone Aspetta ho visto Sopra 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 Aspetta Aspetta Orore Il volksburg Spinge Il volkswagen Il volkswagen Adesso non lo rimetto Il volkswagen Un silenzio di tomba Ci vorrebbe adesso No no dietro Vai via Eh vabbè 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 Mamma mia Stanno fuori Questi No ma perché sto Cazzo Ma anche la S44 Che l'hanno potenziato Di brutto Sì Ma chi è che c'è sta musica Ma che è No non sono io Lo giocco è burst Ma era Una storia vista Ma bro se tu per caso I video su tiktok Li fatti diventare virali così O lo hai sponsorizzato No non ho speso neanche un centesimo Su tiktok Eh vedi Questo è molto bello Due milioni di view Quanto? Due milioni Due milioni Eh ma le people Non fanno tanto Secondo me sono più follower All followers 12k Ma non sono Non sono tanti Dici Tutti tiktok No Almeno 100k Minimo Usate questo tempo Per allenarvi Poi si farà sul serio Comunque Andrea Ieri ho visto delle Dei video Maria grazie del like Ho visto dei No Dei video di Neo Porca madosca Eh vabbè Sai che mi ispiro un po' Lui anche Andrea lo so Non arriverò mai Ma manco se Ci sarà il Dragon Sharon Ma quella è un backup No lo so Io sono Io sono da pad E devo dire Che è molto più difficile Ci ci Grazie La 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 Gioga tutto di flip Giuseppe grazie La Benvenuto Ma infatti io Allora Sto facendo un test Ciao Giuseppe Come stai? Grazie Benvenuto Comunque io Seguo Con quanto sto giocando Di moltiplicatore Sul cecchino 1.5 È altissimo Cioè è proprio Veramente alto 1.05 1.50 No 1.50 È altissimo Infatti Io mi trovo bene Mi trovo stra bene Faccio Ma quanto hai di moltiplicatore Però Della Non della mira Del movimento 19 19 Oh ma dai Il 44 Ce l'ha quasi tutto fatto Ma che bello Ritorno Io poi se riesco Mi faccio cercare Oro Prima ero sul multi Di vanguard Togliamo Qua 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 Ero sul multi Di vanguard È una cazzata Cagliate punti Per farli tornare prima C'è un soldato nemico Uccidete tutti Via Ecco delle protezioni Abbiamo quasi il Lodi Raga Non c'è un cazzo Trovati Trovati Vai Load out Vamos Faccio di equipaggiamento Per voi Dammi i soldi Datemi i soldi Raga Per favore Dammi i soldi Burst Ah non ce l'hai 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 Ragà Non l'ho così Voglio usci Voglio usci Un sorvolo di ricognizione Uwav Vieni il sorvolo Tieni Ce l'hai Lasciati i soldi Qui c'è un bel po' Che soldi ve lo lascio Vi lascio anche io qua Dateci quello che volete Cioè raga Più vicini Gli unici sono questi Ho trovato un fucile Mi muovo Gli unici Dai pushiamo col ballone Vieni Autonomia U A via esaurita Rientro alla base Ma perché non mi ha fatto Il lobby Ho fatto io Andre Mi muovo No no Non mi ha preso il lobby Borsi li vedo Io sto parlando a piede Però Raga devo rifare il lobby Mi spiace Lo rifaccio Mi sparano Faccio di equipaggiamento Per voi Stavo a fanculo Avete un altro wav? Vieni lì lo attivo Take his shot Gli stronzi mi pendono di mira Finicimi Un'uccisione confermata Ok Andiamo Atterra Un altro team Camperato Col ghost Assurdo C'è un soldato nemico UAV nemico Mi attaccano Tuo alleato è appena rientrato Ho messo la S44 E non me lo dava Mi dava il Il d'auto che c'era prima Non capisco perché Forse l'hai messo in prelobbi A volte si bugga Sì è vero Andre È vero è vero Allora sì Non te l'ha preso Porco No mi rincio Trovo le bestemmie Andre Ho detto porco due Ah ok Non l'ho sentito Straccato ragazzi Non fuori Su balcone Raga raga Qua fuori Fuori Uno a terra Sono in due Sono in due Sono in due Eh vabbè Uno l'ho fatto Però Che l'ho fatto il mio Che l'ho fatto il mio Sono tutti dentro la safe bro Muoiono tutti bro Non so come l'ho fatto a scappare Mi ha dato la kill Ma non me l'ha dato Caccio di evo Il facciamento per voi O tuo alleato è appena rientrato Uabbi nemico attivo Cazzo Spettiamole che arrivano qua Questi Spettiamole Ho fatto una cazzata Comunque Tutto ok Bro Tutto bene scusa Se poi c'è un posto Vuoi rifarmi qualche perdono con te Che poi vado in vacanza Per due mesi E abbandono il gioco Eh guarda Due mesi di stop Sono le cose più giuste Comunque va bene Va bene Giuseppe Va bene Qua sotto Qua sotto Qua qua Raga Operatore ostile A casa A casa Lascia venire le corazze O bastardi Vabbè la prendo Ragazzi le corazze sono qua Corazza Bravo Io non manco corazze Venite qua Che ci sono tutte le corazze Raga Prendi la taglia E andiamo a usciare Col ballon Così eh Ve lo butto lì Faccio un calacorato Raga Cercano di scappare con il denaro Fermateli Oh leee Per domanda che avevo fatto il secondo lobby Oh questo? Oh ma c'è uno qua Oh Raga ma è qua Dove? Qua Lo vedo lo vedo Il mio è mio è mio è mio No no Mia 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 No No mi ha confermato Non ci credo Ma dove cazzo è? Vendita Ma chi è questo dio? Ma no Ma l'NZ C'è colpi quelli Tre colpi Chiamati tre colpi Come andare? Come si chiama? È bello Raga o crossiamo adesso o mai più Perché sennò dopo ci Foreto 30 colpi E qua 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 Sono in due mi hanno colpito terra andrea questo è bello questo è bello molto bello sopra di te andrea quello che ho vabbè c'è uno da me mi sa uno qua sotto arriva andrea ti do una mano di sette passi sette passi è andato da fare sopra la torre anche se riuscite c'è restato ma panmocca borse quella ce l'hai ok andrea andrea devo non scendere lo vedo lo vedo non so dove mi stiano sparando da dove minchia ci sparo l'ho visto l'ho visto come usciamo da sta merda oh da dietro da dietro no cazzo il sogno di medicina mette ti deve salvare oh daaa odio 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 occhi aperti destra di ritorno sta per chiudersi oddio e citar mamma mia questo con l'elicottero mica che schifo che schifo porco diazzo poi mi fanno bestemmiare vabbè ma da una parte li posso capire sono scarsi boh provano a giocare con l'elicottero ci sta e l'ultimo se l'ultimo non pushare aspettami che arrivo aspettami che arrivo 10 secondi ti riportiamo in prima linea ma cazzo son morto è l'elicottero ancora sta luttando la parola vabbè vabbè io non gioco più mi chiamma siete proprio scarsi ma guarda che bravo borso bravo bravo ricky bravi bravi porco giuda bombardamento no ma che fatto mi ha presa bombardamento borso com'è eh bro bro ma che cazzo sono chiuso lì dentro non venire qua tra venire qua eh oh cazzo troppo tardi guarda che roba oh mamma mia il degrado sto gioco è diventato il degrado voglio chiedere due minuti che mi faccio l'arma se no non me la fa non me la fa usare no vabbè te la dovrei dare in teoria guarda te la dovrebbe dare in teoria non te la dare la prima partita che la fai no vabbè Porca mignotona! Quella mignotona! Qual è la meglio di me? Marco, ma stai andando ancora in sabio? Sì. Sì sì. Parare proprio, entravano colpi ovunque, su corpi morti, corpi vivi. Quando vai in ferie, Matteo? L'ultima di agosto. È molto beautiful questa cosa, è molto beautiful. Andrea, ti ricordo un po' Faze Neo, dai, un po' sì, dai. Cosa? Eh? Non ho capito. Dico, ti ricordo un po' Faze Neo. Cosa? Vabbè dai, però alcune cose, dai, metti alcune cose sembra un po', dai, un'unghia almeno, dai. No! Quello è proprio l'estremo. Cosa? Quello fa paura vederlo giocare, Matteo, tu non ci azzecchi un cazzo. Eh, vabbè, almeno ci provo. Oh, io sono sempre da pad, eh, oh! Noi serve sotto il culo pure. Cosa? Comunque... Hanno pure i serve sotto il culo quelli. Eh, lo so. Hanno putti, con due per le mie per mille, la mia, la mia. Cosa è della nonna, cioè non serve. Giocono 20 fattori, se non ti faccio il silvio che quando finisce di lavorare. E' bene, non tutti fattori di spazio. Beh, sono anche campione, se scordo. Guadagnate punti per fare... Poi nei Faze, quindi, cioè... Noi dei Faze... Io sono morto? Anch'io, mi sa, eh. Uccidere tutti i nemici. All'attacco! Raga, non ho trovato un'arma. Ho trovato un'arma. Oh, che nemico amico, ho avvistato. Sono italiani, eh? Sì? Come fai a saperlo? Noi, Fra, gli ho sparato tutto il caricatore a questo, non è morto. Devi morire ora, eh, basta. Si chiama Magnifico. Seguo, bro. È magnifico. È magnifico quello che mi ha ucciso. Mi stanno muovendo. Minchia, raga, quando mi appendo mi sento a Oezio Uditore. Zio Perovic. Intenso fuoco nemico! Seguono, fatto. Uno è andato, l'altro. Aiuto. Aiuto. Arriva, bro. Rimangono 24 nemici. No, ho finito le armi. Ho finito le munici. Non muoielo! Uno è Wanker, ragazzo. È qua, è qua, è quasi morto. Matteo, quello che sto facendo è Wanker. Vieni, vieni. Va da morire. Vieni, Matteo, vieni, Matteo. Non ho più colpi, bro. Oh, come mi dà un colpetto? Aspetta, bro. Aspetta, bro. Aspetta, bro. Non è niente. Alzati. Aiutatemi. Arriva da qua, arriva da qua, arriva da qua, bro. UAV nemico attivo. C'è un soldato nemico. Vabbè, che si. No! Wanker, Wanker, Wanker! Un colpo messo. No, 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 mince. Senza... Ora tutto bene. Qua, qua davvero. Wanker, Wanker. Bravio. A terra, a terra, a terra. Bravio. ma io non sono più rinchi ho salvato il culo rinchi ho salvato il culo si vabbè vabbè scusatemi prendilo daut va prendilo daut va ma lo ho preso io anzi no no prendilo daut minchia io veramente ma come ma come ah mio oh che ormai veramente diventa che che spara ma sai che ogni tanto andrew viene anche no che cazzo di armi ho preso nooo l'ho preso un altro prendete un wap se potete io non ho soldi andare a lavorare ho sbagliato ho sbagliato ho sbagliato cosa ma boh ragazzi c'è gente qua comunque ho visto vediamoci in quel punto c'è gente eh sto pushando lancio di equipaggiamento per voi mamio mamio ma voi correte troppo ma voi siete separati i matti da una parte e voi due dall'altra ci sta nuova zona sicura per voi sta arrivando un nemico attenzione in alto ci sta ci sta ci sta è più forte sai che vuoi stare che sono qua sotto dov'è la gente qua sotto di noi sai che qua c'è la parte sotto no sto andando da le do una mano dai eh sarebbe anche ora pezzo di pago c'è gente qua questo amio gay pure mi dissocio comunque lascia stare l'obiettivo è eliminare il bersaglio c'è un soldato nemico qua qua da me vediamoci ancora traccatissimo dai dai io non ho dato qua pieno ahhh grande sei qua vedo ti sta ti puxavo ti puxavo no ti pisciano un altro bravo 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 è molto oh che c'è oh rica il trainer hai visto? credo che mi sto buttato hai fatto un'altra opportunità per dare la differenza ma fa merda a seguire il gas viene quasi addosso oh dietro 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 staccato ma dove è uscito questo? niente t'ho fatto con la pista t'ho fatto con tre colpi ha fatto il bombarda non ci credo non ci credo non ci credo non ci credo guarda quanto li ho lasciati guarda lì che culo di merda allora devi fare abbandona gioca di nuovo abbandona col team andiamo guarda lì non ci credo uccidiamo il cane per favore grazie like erlinda no sto scherzando mica non si può neanche scherzare io ho due cani buon pomeriggio erlinda come stai ovviamente scherzo ragazzi c'ho due cani io amo gli animali mica qua siamo una banda di permalosi quindi mi ami no io c'ho due cani ragazzi non scherziamo c'ho due cani tutto bene erlinda tu come stai tutto a posto scontati attenzione sangue blu anche sangue misto esco ma stavo che c'è il k e certo io sono lì niente ragazzi niente ragazze di fare il ragazzino ormai c'è 40 anni che cazzo c'entra l'automato non distrugge vuoi andare a petto nudo a ballare con te dove vinta grande perché è petto nudo che cazzo ma c'ho la pancia amio 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 aspetta lo stick oh no 30 ma tenerebbe la catturazione ma tenerebbe le pesce mai no mai non fa niente comunque salude e va bene in un ipad che è a puttale e va bene non fa niente ritorno comunque posso dirti una cosa una cosa posso dirti una cosa una cosa che non capisco e non capirò mai uccido questo e te lo dico vabbè ce l'ho provato com'è che vedo video del cazzo ah non so quanti mi piace e poi io magari che mi metto di impegno 2 c10 mi piace minchia bro io per diventare finale faccio video del cazzo ah per forza nel senso cose che allora il video del pro player di quello che fa le belle giocate non interessa più a nessuno eh immaginavo c'è solo invidia ah i filtri i filtri 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 invidia tranne che hai hai un nome magari tu hai un nome tu sei già famoso e quindi proprio prendi dei like già dai tu ti ricordi ti ricordi che ti ricordi che clip facevo io abbiamo lo d'auto eh ragazzi sì sì quelle divertenti in una stanza che conosco qua qua raga qua sotto qua sotto qua sotto qua sotto qua sotto lo d'auto lo d'auto lo d'auto poi ovviamente tipo instagram piattaforma da mollare ormai venditore individual una domanda cosa vuol dire m m sarebbe in che senso eri linda lancio di equipaggiamento in anticarro innescata ragazzi l'ha serato udito in gula andrea ma a me piace tanto prendi il ballone prendi il ballone il ballone e andiamo sul tetto della e andiamo sul tetto della e andiamo sul tetto della church ma mi hai lasciato prima delle piastre ma anche me ragazzi io non ne ho allora andiamo come comprarle è molto bello questo andrea ti fa onore oh mio molto bello ho atterrato uno qua io ho atterrato hai atterrato avevi ovviamente si è arrestato il pisellino eh ma chissà dove cazzo è andato il merda oh zero kill ancora ma la gente esce o che uav servirebbe adesso 17 metri qua da me raga che cazzo sei tu sono verde 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 no merda no 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 merda no non lo pinga più è in volo è in volo è in volo oh ma zero kill ti quanti wow ma si gioca o ah raga fate un wav così almeno prendiamo una taglia no wav wav uuuh vedi che c'era raga era qua i mercenari usano un elicottero di rifornimento per depositare il denaro tendetegli un agguato ma che cazzo ma si gioca faccio di equipaggiamento per voi dove stai uu dai minchia ma sei proprio eh non arrivo è proprio un culatello no gas in arrivo c'è una nuova zona sicura porto io obiettivo sistemato vaga voglio puoi respirare hai seminato il cacciatore se mi dici dove sparano ti do una mano basta attacco a grappolo alleato qua bors qua qua da dove vi sparano raga ho un contatto li ho pingati li ho pingati raga mi ha aumentato l'arma aspetta che vi faccio un regalo un regalo raga 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 una a terra una a terra si resta si resta si resta si resta si resta pro avanti raga vi ho fatto i nuovi vi è garbato raga l'altro è qua raga tre a terra non ho preso una kill oh mi hanno rotto il cazzo questi raga cambio posizione ma quelli ho fatto anche sotto da me qua 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 mi attaccano colpo o lascivi la corona di stronzo non ho colpito non penso cazzo ci c'è 100 qua sotto all'oddy all'oddy aspetta che arrivo hai fatto con la loddy sono qua raga con qua sotto le coordinate da raggiungere che faccio Vado? Sto pusciando a guidare le piazze No, aspetta, c'è un... Faccio che lascio a portatile che ti dico un po' di foglio intanto Arrivo, Matt Sta laggando di brutto, raga Aspetta, Matt, cerca di salire, bro Vi vi allegrò un po' di quelli Raga, ho portato delle piazze, faccio volete e sono... Corazza, qui! Vieni! Zero kill, raga, c'è, boh, ho terrato tre persone Uno qua? Eccoti, bastardo Non vedo gli altri, attento, eh E' là dentro Eccolo un altro, un altro Vengo anch'io, vengo anch'io C'è one shot, eh Minchia, te l'ho lanciato proprio, uccidi Vado io, vado io E' là dentro E' qua come un ora, vabbè Cazzo A terra uno Ma dove cazzo è finito? Vado Fatto No, raga, l'altra qua, l'altra qua, l'altra qua, cazzo Noi siamo dentro, non possiamo salire, bro Arrivo! No, 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 so E' lì da voi E' lì da voi, vedo che l'ho fondato E ce ne ha uno a terra qui, tranquillo Uno a terra lì davanti Alla sua sinistra ne ha una a terra E' schifo, vera sopra, mamma Mamma mia, come cazzo gioca, no Porco Dio Cazzo 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 Mi hanno colpito E' a terra Resta bro, resta bro Cazzo 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 In tronso Cazzo 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 Ma questo qua... Raga questo qua è Quickscope! Versaglio per il barco aereo designato Marco la nuova zona sicura Questa attacco in corso Rinforzi sono in arrivo Carcato uno, carcato uno sopra il bomb e adesso lo non c'è No 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 no, non posso dire, però non c'è Bombardamento fallito E' una trappola qua dentro Raga ma le mie armi non sono più Vieni c'è un sacco di roba qua, Andre vieni Indico ignorare Eeeh, bisogna, come si dice, come direbbe Baglioni Bisogna levarci Mi sentite? Si Andrea, si si Non trovo le armi, ti hai baccato su Ho preso la porta raga Chi è un nemico ti da la caccia Sopravvivi Non so dove... C'è uno sopra Ce l'abbiamo qui, bro Qui dove raga A terra quello E il gas mi è quasi addosso One shotissimo uno No 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 Da dentro Mi attaccano GG Gli alleati sono nella zona sicura Contratto fallito Raga sono tutti qua, io sopra il subito Dove 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 Mi serve copertura Devo lutarmi quelle, non ho niente Sotto raga, sono morto Hanno arrestato, bro Sono sotto raga No, son morto io Raga io con voi salirei dal Taccalo Prendiamo il cavo Posizione marcata Atacco aereo Vai vieni, vieni verso No 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 No, ragazzi, si è circondati Mette resso me il carrello Eh, cacch.. Aspetta Sopravvivi a contigo Arriva il gas Ecco la nuova zona sicura Quale? Già ha fatto È buono Adesso ne ho uno Cosa? C'è uno dietro Manco lo conferma C'è un cecchino di merda No mi ha fatto un cecchino Mi ha fatto un cecchino Quattro colpi gli hai dovuto dare Mi ha fatto un cecchino Qua chi mi fa Venditore Riforniamo il gas E' sempre più vicino Guardalo lì Ah ma io è restato No Ma lui perché ce l'ha buildato da quick Sì però Non fanno più da anni Tornato lì Sta arrivando un nemico Attenzione in alto Vada lì Testa piena Hai visto a sinistra? Segnalo una stazione da questo Vai anche tu a restare al carrello mobile Lì c'è lì davanti Eh ma c'è Eh fatta Ma c'è gente Ma lì dove c'è chiamato il tipo eh Segnalo una stazione da chi non c'ha di nessuno Nooo Vai a restare Sì sì Ma non lì Il carrello mobile c'è questo Bello Eh Andre Cherello mobile è impossibile Lo sai Eh no UAV in servono E' dall'altra parte di che andare Andre Ti vedi Sempre più vicino Ok Di fronte lì E su Bacchone Ma c'è un tempo Da dove si spara? Con la maschera in quella al massimo può andare Ma poi muore Sei tra gli ultimi 5 Devi tenere duro Vada lì qua Autonomia UAV esaurita Rientro alla base Oddio 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 E' sto tua E' sto tua Eh sì Va bene Vamos Non me la fa startà Eh lo so Pa popé Pa 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 Pi pa pi pa Popè Andando in tre Eh Ok Ok Ora c'ho le armikiste E Invece di 2 kill Ne farò 3 Ma Questo gioca con Jack e RPG, raga. Chi? È il Peperoni. Sì, l'ho appena. È il Peperoni. Guarda che mi arriva da dietro. Ma perché non lo ammazzi? Ho tirato una cecchinata in testa, vi ha dato blu. Ma gli ho sparato pure io a questo trucco. E' molto beautiful. È molto bella. L'ho visto ieri, Pasqua. Non lo chiamo mai, c'è un merda. Lui non mi scrive mai. Il tuo fratello, il tuo padre, il fratello. Eh? Cosa? Il tuo fratello e il tuo padre stanno bene? Sì, sì, sì. Papà è in ferro. Indica un punto di lancio per l'inserimento impostato. No, è a casa. Mia madre lavorava per te roppo, è qui in due anni. Alla zona sicura. Sopravvivete per far rientrare i compagni ucili. Ottenete punti con le vostre azioni per farle insorrare più in fretta. Disturbatore nemico individuato nella vostra area. Disturbo? 20 euro per disturbo. Che gente è, Ricky? Sono sotto a vedere, va. Sì, 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 sono qua, sono qua, li sento. Bravo! Ciao. Abbiamo uno sulla torre rotonda, ma è che c'è tra di noi. No, sono qua, raga, sono qua, sono qua. Aspetta, ma se arrivo. Dai, gira. Ma Andrea, ma dove minchia sei? C'è un soldato nel... Mi colpiscono! Sarra uno. Via la bocchetta. Mi hanno colpito! Mi nevico, attimo! Cazzo, mi hanno colpito! Cazzo, mi sparano! Andrea, ah beh, ma si può fare lo d'auto, va bene. Ha un'altra opportunità per fare la differenza. Andrea, è proprio fuori dal mondo. Et voilà! Stamper, qui, beh. Ehi, da me fa... Ecco, se ci spariamo addosso, tra me, non è sicuro! Eh, dove? Era fatto proprio dall'altra parte della mappa. È lui, non io! Prenditela con lui! Sia, bro! Voglio un sorvolo di ricognizione. Uh, giù dalle scioppi! Oh, lo sciopportati, lo! L'ho buttato sopra, l'ho buttato sopra. L'ho buttato sopra. Eh, sul tetto lo volevo lanciare. Veramente? Non salito che fa... Autonomia UAV esaurita, rientro alla base. Hanno chiamato me tanto a me stop, vetti, racca. Non va bene per me. Dai, oh, che falle. Ma fatevi i cazzi, i vostri. Ma vale che cazzo di nabbi, che... Madonna, donna, 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 donna. Certo che c'è il posto giusto, se tu hai chiamato prima, ma evidentemente non mi hai sentito. Facciamo questo e ti invitiamo, va bene? Solo che non mi ricordo come ti chiami. E quello è il problema. Arrivo, rogo! Non è ancora finito. Attivato il raggio qua, eh? Operatore ostile. Sì, 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 sì. Sì, qua vada me l'Oddy, l'Oddy, l'Oddy. Qua vada l'Oddy? Sì, sì, sì. Allora, vado me, vado me, insomma. Aspettate un po'. Oh no, ma come? Ma guarda che schifo. Guarda che schifo. Ti pulciano, ti pulciano, ce n'è un altro. Ti pulciano da dietro. Buongiorno. Ma c'è una b... Mi sono entrato. Dai, mazza, aiutami, mazza, non scappare. Ma non sto scappando. Non sto scappando. Non sto scappando. Non sto scappando. Sì, 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 sì. Pingato, pingato. Dice che mi ha pingato. Mi ha lasciato lì come un babbo, mi ha lasciato. Una one shot. Gas in arrivo, c'è una nuova zona sicura. Dai, dimmi anche qualcosa su qua, pezzo di merda. Ah, mio. Dovevano uccidermi quando potevano. Ho avuto qualche problema col tasto. Ah, mio. Ah, mio. I tasti che vanno a puttana, ma... Tu avvenimi coattivo. È normale che mi mira in automatico in su. Eh, allora è il joystick, Andrea, sì. Cerca di coprire le tue tracce. Sei la preta di un team nemico. Io metto pausa. Eh, sì, sì. Metto la mappa. Mi parte il con della mappa. Ma... Oh, ma sei fatto. Sì, vabbè. Ma come fai a... Ma dai, oh. Sopra là. Ah, sono qua, Matteo, sono qua. Vedo un nemico. Sempre lui, eh. A me io mi puzza come la merda questo qua. Te lo dico, eh. Ah, già, è vero, è vero, è vero, giusto. E l'ultimo è l'ERRQ. Incarazzato. Restate in 25. Tieni gli occhi aperti. No, 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 mi puttano. Te l'ho detto. Aspetta, aspetta, per quattro secondi, aspetta. Mi sono abbassato, raga, per tirare il bombardamento. Gas, sei in movimento. Sto andando a pushare. Hai un'altra opportunità per fare la differenza. E la destra. L'ho visto prima che scava a cava, eh. E rinforzi solo in arrivo. Vinga, mi ha andato, aiutami, aiutami. Eh, ora non la vedo. Vabbè, più o meno. Tutti gli alleati sono nella zona sicura. Eh, sono da me. Sono da me. Attacco aereo sul mio bersaglio. Sono restabile. Attacco in corso. Qualcuno gli ha segnato in un'attività. Trovate io, trovate io. Ripeto, nemico illeso. Qualcuno mi ha preso la roba qua. Colpi di medio calibro. Sì che mi ha preso la roba lì. Mi ha chiamato il giro. Io farei solo. Che roba. No, dammi 100. Andrani, dammi 100. Dammi 100. Sì, mi ha preso tutto il posto. No, no, no. C'ho le mie robe. Vabbè, come faccio ad usare le tue? Ma non c'ho più... Vai a loadout. Vai a loadout. Vai a loadout. Guarda, ragazzi. Non c'è più nulla. Non so lo piacere, il vero. È impossibile, ero pieno. Qualcuno l'ha presa. E loro non fanno. Dai, io non fanno. Busce da me. No, ma è matto. Non so che sono matto. Qui è sempre lui. Non c'è dentro. Cassa di scorta in campo. Non uccidermi quando poterlo. Vabbè, io fuccio. Supporto. Ok, uno è andato, eh. Cazzo, mi hanno colpito. Perché mi era in su? Oh, avvene, Mico, attivo. Mi ha perso un po' joystick di merda. Sono in due, eh? Eh, lo so. Riesce a darci una mano, Ricky? Che sta arrivando? Occhi aperti! La finestra di ritorno sta per chiudersi. Obiettino ha aggiornato. Fatto, uno. Non è di più in tempo da una rara. L'ho fatto, vai, 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 su. E su, l'ho rimasto avuto. Cazzo, mi hanno colpito. Fatto? Che no. Come ho fatto a missarlo? Ti stanno muovendo. E qua? Possibile, in vista. È sempre più vicino. Sta arrivando. Sto, 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 sto. Cominale, ecco. Dai, ma che forte! Ma sei fortissimo! Bastard! La prossima! Guarda lì. No, 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 no. No, no, no. Ma assolutamente, proprio c'è. Assolutamente no. Peppo, 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 dove sei, Peppo, Peppo? No, trovo, Peppo. No, trovo, Peppo. Peppo! Sì, Peppo! È famoso quello che mi ha ucciso e ci stava, eh. Cioè, mi ha seguito il zio, mi sono messo dietro a uno spot, sapeva che è uscito. Io sono stato fuori, mi ha traccato da prima del muro, cioè, sta mollendo. Peppo, non ti trovo, sai. Sì. Raga, vi invito io. Ui, Peppo! Giuse? Ciao, ragazzi. Ciao, Peppo. Eccolo. Ciao raga Ciao Quando vuoi Quando vuoi Arrivo Va beh What? No 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 Io c'era l'uccellino che andava a tempo Preparate l'attrezzatura, manca poco Nemico in arrivo nell'area Nemico in arrivo nell'area Ok, andiamo Ma chi è che è il mona che spara tutto così? Sta arrivando un nemico Attenzione in alto Lukaku è arrivato a Milano Mi ha ucciso Jax Mica, vuol dire che c'è anche Fedez Tutto brutto Maria è la Juve, sì sì Confermed La post-bap però ancora non è sicura No, no, è sicura Ma sì, ma figurati Questo è il nuovo allenatore della Juve Under-19 Cosa? Il nuovo allenatore dell'Under-19 della Juve No, chi è? Del Piero? Paolo Montano Minchia, auguri Auguri, insegnerà proprio Una squadra di macellai Sopravvivete per far rientrare in compagni uccisi Ottenete punti con le vostre azioni Per far ritornare più in fretta Attenzione, le mette con la Marco C'è un soldato nemico Uccidete i nemici senza che lo facciano loro Oh, questo? L'obiettivo è eliminare Allora Aspetta, l'ho visto dopo Attacco a grappolo alleato Ce l'hai sotto di te, Ricky? Si ricomincia Qua raga Ecco il tiratore Abbiamo il lancio Mi lascio l'atterrago nel bombardamento prima, raga Mi hanno colpito Ho nessuno in arrivo Mi sparano Ma quittato, no Obiettivo sistemato Anzi, contatto Oh, io lo sento ancora No, ha quittato Quello che l'ho ucciso Granata raffinata Vedo dei nemici Si, si, si Un soldato nemico Sopra di te, bro Il tuo alleato è appena rientrato Deve essere qua nei baraggi E qua, qua, qua da me Oh, qua sopra No, niente Mi parte la mira, raga Mi parte la mira in su Oh, avvene mio Ah, è caduto anche lui, raga Cazzo, mi hanno colpito Occhio Copri, copri Qua, qua, qua Vai, vai, fai uscire Cracatissimo Io non posso giocare Io non posso giocare Ma poi Oh, c'è Nando Mette a destra Gas in movimento Fincione La vendetta è servita Non si ha sfusi Senza niente È sempre lì Un'altra squadra In rientro Uno è sul tetto, raga Uno è sul tetto Si è buttato Eccolo Ecco, un tiratore C'è un'altra gente C'è un'altra gente C'è un'altra gente C'è un'altra gente Vuole lasciare qualcosa Eh, bro Sono arrivato adesso Non avevo niente C'è un soldato nemico È qua, è qua, è qua Si, Andre, si, si Ce l'ho Ho pingato Niente, tanto la mia Che mi parte Flashbang lanciata È da solo, eh Cazzo Mi hanno colpito Fuoco nemico Io non ce l'ho visto un cazzo È andato su È andato su, raga È andato su Come cazzo c'è arrivato Fin alla 25 rimasti Stai andando bene Lancio di equipaggiamento In arrivo Andre, vai, vai, vai Panino, panino Vai, vai Ma la pistola Ma no, non era lui, eh Dov'è Gas in avvicinamento Nuova zona sicura Ma le mie armi Da cazzo sono finita Le devo prenderle da auto Mi sparano, Lalo Sto tirato uno, marcato Guarda, cazzo, mi ha zerato Molto, però Foto sotto ne abbiamo uno, dai Nooo E baffanculo Baffanculo No, 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 no Braa Un nemico è sulle tue tracce Fa' attenzione È quello che mi dava Volete? Eh baffanculo Senza piastre, cazzo Spera che ci conviene morire Ne restavano 25 Spera che ci sono morti Senza piastre, vedi, che cazzo Mamma mia Vedere su Instagram La Canalis Brutta, eh In piscina Mamma mia 40 e passani Ma cos'è? Lei ha Di social comunque Che si dice Preparate l'attrezzatura Manca poco C'è un soldato nemico I mean, I did Però la migliore è rimanere la marge All right Sta arrivando un nemico Attenzione in alto Oh, doi starlo Per favore Basta scherzare Ascoli 10, no Ah, ma salta bene Bastante Dall'acqua d'olto Dai Ammio Sì, ammio Eh raga, che vedate Mi fulo darei Una persona che mi parla Di lui Sì Ritorno Oh, io ne vado lì Ah, c'è Postra Oh, mi dò Sopravvivene per farli entrare in compagni e uccisi Ottenete punti con le vostre azioni Cosa? È proprio un posto brutto questo No, no Guarda che se lo prendi bene questo punto Qualcuno prenda con la sconazza Guarda laggiù Guarda laggiù che bello Ah, non c'è più Ammio Oh Ma anche la perla di PG Ma chi è? Io Ma sei scemo Minchia, ti sei preso male, eh Minchia, mi sono Stai arrivato Ammio Ti sei preso mai, io Ammio Ti sei preso male Loadout, raga, se volete Ma solo se volete Se non volete Ah, miat Bello, molto bello Oh, che è successo? Si sparo dall'alto Stai arrivando un nemico Attenzione in alto Vabbè Vabbè Te lo dati, te lo dati? Te lo dati? Mi lascia lì Come al solito manca sempre qualcuno Vabbè, vabbè, vabbè Sono qua Sono qua Occhio sull'alto Vabbè, amico attivo Venditore Riforniamoci Raga, lo tiro Prodato Siete qua, siete qua, siete qua Qua c'è gente, occhio Ragazzi, stanno venendo a pushare Ve lo dico Dove? Eh, lo sento qua Guarda me Laggiù Quanto, tutte le volte che mi ero per sparare Dio, fammi parte la mia è in su Vabbè, lo facciamo sacca Se volete Quando potete Con la gente da ammazzare Matt Che interessa Vabbè Raga, vabbè Ma vedi che mi... Vuoi tornare in azione? È di fronte a me, raga È dove? Tinga, tinga, bro Eh, sono c'era Manca a me Chi è che ha detto Coglione? Ma quanto non riesco più a giocare, raga Mi mirano troppo Bro, dai ancora un po' a giocare Oh, qua, qua A terra Chi è che? Vabbè l'ho fatto Ma che cacchio l'ho fatto? Qua raga qua Non basta Se ci spariamo addosso Perderemo di sicuro Ho la doppia Sì, la cosa Non è ancora finita Mentre la squadra in rientro UAB nemico attivo Sta arrivando un nemico Attenzione in alto UAB nemico attivo Non muore Non muore Madonna Lancio di equipaggiamento In arrivo Oh, com'è la situa Lio Poi, a me c'è un po' di gente Io, raga Oh, là Casse in avvicinamento Nuova zona sicura Raga, prendi la torre Io vado a vedere un attimo su torre Senta colpo Lui Ci senti da me? Occhio, occhio, occhio È qua, dentro È dentro, raga I mercenari cercano di scappare con il terreno Quattro, quattro, quattro Quattro, quattro Quattro, quattro Kaido, vieni, vieni, Kaido Dall'altro lato e saliva, Matt Ooooo Nemico in arrivo nell'area Guarda il dove è Quattro, qua c'è Non sta andando da nessuna parte Da me, raga 25 rimasti Stai andando Matt, dove l'hai preso questa? Oh Operatore ostile Un colpo, raga One shot, one shot Vai, vai Grazie, bro È dentro Lo lasciavo, one shot Mi attaccano Quai, oh, raga Vieni Destinazione marcata Sopra, sopra Arriba, arriva, arriva Raga, 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 raga Ma che cazzo Ma dove sono? Questo si è buttato Un'altra opportunità Per fare la differenza Vedo un tiratore Vedo un tiratore Mentre la squadra in riesco Sto a fare un cazzo Allora, tranquillo, bro Nemico in arrivo nell'area Ragazzi, ne avete, boys Ho due kill, wow, però Tieni, tieni Nice Sotto di raduno marcato Solo a pingarzo Thank you Lasciate perdere Ego, figurati Oh, uno qua sotto Sotto in chiesa 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 Sì, eccolo, eccolo Ecco, eccolo Sì, 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 sì C'è buono C'è arrivato Tutti nella zona sicura Forza Ma che cazzo in mercato ne ho? Lungi miranza Cos'è? Ah, nicchina Compre lungi miranza se riusciamo l'obiettivo è eliminare il bersaglio compro anche delle piastre che ci avanzano andiamo andiamo via da un tiratore non si possono comprare piastre qua guarda quanta gente arriviamo ecco delle protezioni c'è molta gente questo forse è atterrato qua la taglia la taglia raga arriva in gas marco la nuova zona sicura comunque io tutte le volte che mi ero raga mi parte in su mi parte io vole hai bisogno c'è uno qua sopra il tetto vedo un tiratore anche uno la sopra ce l'abbiamo sui detti la taglia la taglia la taglia la taglia la taglia aspetta bro che arrivo si è buttato si è buttato si è troppato a sinistra bro si attaccano che è successo? bombardamento di precisione nemico giù si non so tutto metti tutto metti tutto vaffanculo bombardare il cazzo da me da me raga mi ha pushato no però mette non puoi fare queste cose bene si venga ma cosa sono tutto il tetto porco chiudo adesso allucinante allucinante ok che lo devo coprire io noo ignorate raga la è piena di gente andrea hai un'altra opportunità per fare la difesa a terra quello che ti ha fatto ti ha fatto quello della noia vero? si ti ho sentato si si lo faccio da terra andrea ce la fa e te lo faccio io un tetto di binary giusto? bravo hai pericolo windows tieni teni qualcuno prenda quella corazza no 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 nono mi fa mi fa si raga casse in avvicinamento nuova zona sicura aspetta 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 eh ma staa raga sta zona raga è un po scoperta è un po abbastanza ragazza raga sempre quello dal tappo di winery? si riuscirà? aspetta adesso mi sto guardando guarda ho preso delle coracce eh? coracce grandi aspettiamo insieme mi servono un po di soldi no non l'abbiamo no ma io non posso tirare la cecchinata da questo là cioè dove cazzo è? qua guardalo qua è qua ho un contatto ti danno droppati raga ma che cazzo è che mi spara? va qua ok ah raga questo è un contatto di winery è ancora lui ma bontano l'incatto di bombi dio santo il gas ti è quasi addosso dai ti devi scendere ma me dai allora raga volete che vado a dare un'occhiata? ti gli alleati sono nella zona sottopoli qua marco un bersaglio ciao ma qua chi ha fatto? dietro guarda che arriva da qua eh da chi ti hanno fatto? posso fare? guarda vediamo una buona posizione oh vaffanculo guarda qua è ecco un tiratore dio birbante va bene? eh dai che ma che stico fai? marco la nuova zona sicura non ti fai chagare il mio sopravvivi a tutti i costi dai dai che mi ha fatto vedere tutti i numeri del tuo asano ma che svegli ma che cazzo è? bene bello sottacquamba a grabbolo una volta erano qua questi eh poi eh mio ah ah oh mica con tutte queste casse non capisco un cazzo il gas è sempre più vicino no no ma te fai lì fai lì fai lì fai lì fai lì sembra che spara qua di Ander anche l'altra sinistra assaglio per l'attacco aereo designato richiesta ricevuta attacco a grabbolo attivo ma io in realtà l'ho tirato vabbè ultimi dieci non devi vollare che è questo è questo è questo è questo si 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 parco la nuova zona sicura il gas è sempre più vicino il gas è sempre più vicino liscio vada lì lì sono 4 team ancora 3 team oltre te non ti credo non ti credo bravo bravo tira l'uomo puoi restare grande madonna mia la incognizione in corso UAV insolvolo si stanno muovendo segnalo un nemico è lì la massa sinistra è lì lo so lo so vaffanculo non riesco a salire stai morendo niente ricky ricky no sgrattavo no 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 bravo 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 eh giri merda grandi raga beh scusa ma l'avevo già troppo in stato per non pittarlo dai sapevo che è l'avevo lavorato devo comprare il joystick nuovo non funziona più e non funziona più non funziona più il joystick della play 5 è durato un anno e non mi è mai calito eh ma lo so eh lo so becci mamma la rimanda raga vai 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 ha ah 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 ma nabo sta facendo le private a nabo sta facendo le private usciamo che dite andiamo un po aspetta un po non le distruggiamo in privata solo scudo spade e calcio dell'arma no altre armi boh niente niente scherzavo vai avvia scherzavo scusa 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 anche i guppalli manca poco allo schieramento preparatevi a dover ma vediamo faccio l'ultima poi vado in pale sono in tre di nuovo no 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 la play 5 da un sacco di problemi questo gioco troppo lungo non mi è mai caduto è a terra è un anno più alla play 5 ma l'analogico non funziona ogni volta che miro mi parte in su io in un anno ne ho cambiato due oggetti quella della play 5 sono un po' fatti di mattica un po del cazzоновere circa ci vabbè andrea passa a xbox c'è veramente troppi barbara a tanti pazzi ma davvero che c'è la sera riesce a giocare una cosa allucinante donna oppure mi compare la schermata che sei fuori dalla mappa e mi resta per tutta la partita no no lo so sono i server mi sa del tipo di sto gioco però per non avere problemi ma che poi non è neanche detto di usare il computer problemi senza niente normalmente così tu schiacci un tasto tu schiacci un tasto prenderò 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 melodi raga è bello fare lo daut più veloce del mondo hai fatto la paura ecco delle munizioni qualcuno vada a prendere dammi i soldi ricchi volevo prendere ma non importa eh buttalo buttalo underbuttalo buttalo bene sono qua andiamo qua verde sto cazzo di ma raga ma un vigneto come cazzo fa a bloccarsi il personaggio sul vigneto non capisco ah mi sa che sono sotto a mio no uno qua uno qua solo davanti a me no 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 sono di fronte a me ultimi 25 sono sotto attacco non mi vedo raga uno bersaglio eliminato oh guarda questo dove fatto 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 da destra arrivano 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 bussiano non li vedo questa era ci ha nascosto di voi ma ti dicevo ma dove cazzo è eh di me da qua trasmetto le coordinate da raggiungere c'era gente sotto eh c'era gente sotto comunque ci attaccano a terra attacco attacco un grappolo alleato ma non mi piglia sotto eh no boh 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 però non c'è un cazzo di wav c'è andrea si grazie grazie del vingolo ma perché sempre io la taglio avete rotto il cazzo sto sta arrivando un nemico attenzione in alto raga sono qua sopra raga sono qua sopra richio attacco a grappolo nemico al riparo due a terra chi è che mi ha salvato il culo io io bro grande repos vabbè vabbè tranquillo bro no ho preso l'arma ok tutti e due fatti sì sì ma raga così eh pur parla è un wav oh qua qua operatore ostile andiamo andiamo manchi ti ha sciolto farsi sì non si sentivano i colpi ah guarda oh madonna non lo so guarda a me sono sotto di te sotto è facile dai questo dai sono qua sono qua raga bravo vabbè un problema in meno per noi si ricomincia no raga raga non lo faccio ho fatto un culo ce n'è uno poi l'asta sinistra e l'aerr e l'haerr un'altra un altro vado a fuori l'haerr e l'haerr uav il nemico attivo membro della squadra in rientro son qua da me raga attacco efficace ma sei fortissimo però ma cosa ma non voglio credere ma cosa c'è un soldato questo miti gli ho sparato due ore prima per cazzo che ha voluto efficace bene che cazzo di arma gioca madonna che schifo a sinistra ancora qua ce l'abbiamo sopra sta con io mi dissocio gioco di merda garghi grazie like non l'avevo visto perdono no raga fa fuori fa fuori fatto bro sono safe non oggi amico ci sarà ancora la mia roba qua ma che cazzo ma questo ma questo è composto dal nulla è composto dal nulla è composto dal nulla in arrivo nell'area un tuo alleato appena entrato raga una domanda ma la mia arma dove cazzo è finita così ecco corazze corazze vieni tre qua destinazione marcata tieni 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 qua due qualcuno prenda quella corazza ragazzi molto gentili prego ns regand ah sono qua le due armi forse poi c'è una mitraglietta da prendere no è un'arma tipo modificata c'è una mitraglietta da prendere eccola qua non c'è ah sei proprio qua muto vedi chi è mia quel se l'aveva presa il fango di prima raga 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 ho un contatto questo è stato visto? oh merda a te era uno ok push graffolo 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 bravo è molto bello fatto uno fatto occhio c'è io un altro è arrivato ah no sei tu ok metto arrivo pure io se vuoi ho preso il palloncino ma come cazzo si va lì è schifo guarda come cazzo massima allerta ritorno sta per finire ha il palloncino eh vabbè è vostra madre madonna no dove la c'entra povera signora minchia ha camperato lì dentro dove ha camperato dove? dammi un ping idas forego andrea andrea ti dico solo che si sono chiusi lì dentro Lo so, lo so. A terra? Due a terra, due a terra, due a terra. Mi hanno colpito. Vabbè, fare la kill della vita. Quando si impara. Ragazzi, era l'ultima per me. Eci pure, eci pure. Vai, vai. Giungi,Shin. Eci pure. Eci pure, eci pure.